Aveva pensato di fare una lieta sorpresa alla consorte acquistando una piastra induzione e una batteria di pentole, ma si è visto recapitare a casa un intero bancale di merce. Una disavventura e una disattenzione che potevano costare molto care a un 50enne piacentino, precisamente ben 10.000 euro. Tutto è iniziato circa dieci giorni fa, quando i due coniugi residenti in provincia si sono recati in un albergo cittadino per assistere alla presentazione di alcuni prodotti. Una vendita convincente, tanto che l'uomo ha deciso di comprare alcuni costosi utensili da cucina, per un valore di circa 5.000 euro. La consegna del materiale è stata tempestiva, quanto inaspettata. Il Corriere ha consegnato al 50enne un intero bancale di prodotti, tra cui, solo per citarne alcuni, un materasso, una stampante, un asse da stiro, una coperta per neonati. Insospettito dalla montagna di merce ricevuta, ha controllato con più attenzione le clausole del contratto, dove era occultata una brutta sorpresa. L'acquisto era vincolato a un finanziamento che prevedeva una cifra finale, oltre il doppio di quella pattuita e superiore a 10.000 euro. L'acquirente si è immediatamente rivolto a Feder Consumatori per tentare di correre ai ripari. Gli hanno consegnato un bancale di merce e anche ha firmato un contratto con una finanziaria di conseguenza. Lui, nei giorni prestabiliti dal codice del consumo, ha deciso di recedere dal contratto. Si è rivolto a noi, abbiamo risolto, possiamo dire brillantemente il caso, il signore ha avuto anche la restituzione di quanto aveva dato come caparra. Capitano spesso ancora questi problemi dovuti a delle vendite un po' truffaldine, che nascondono delle retroscena non proprio limpide. Era un pezzo che non capitavano più. Adesso si capisce che c'è qualcosa da smaltire nei magazzini e si cominciano a riproporre. Cosa deve fare chi si appresta a stipulare questi contratti? Leggere minuziosamente il contratto, soprattutto quelle righine belle piccoline piccoline che ci vuole la lente di ingrandimento. Lì c'è scritto tutto l'arcano.